Musica Musica Quando ascolterete queste parole, la legge sulle unioni civili sarà un dato di fatto, per certi aspetti verrebbe da dire, bene, speriamo che finalmente gli animi si acquietino e si arrivi a parlare di queste cose con uno spirito maggiormente sgombro, meno polemico, meno aggressivo. Perché la cosa che a me è dispiaciuta tanto in questo tempo è quello che ancora una volta non abbiamo ragionato insieme su degli argomenti, abbiamo creato degli steccati. Allora da una parte si diceva la destra, dall'altra parte la sinistra, dall'altra parte il centro, dall'altra parte quelli progressisti, dall'altra parte i tradizionalisti. Insomma, chi non la pensava come te era immediatamente dall'altra parte. Invece sarebbe stato proprio il caso, perché questo non succede più ormai in Italia, sarebbe stato il caso che noi su questi argomenti si ragionasse in termini umani. Perché qua nessuno può impadronirsi e dire è un problema psicologico, è un problema religioso, è un problema politico, è un problema legislativo. È un problema semplicemente umano, antropologico e quindi ci saremmo aspettati, io mi sarei aspettato un confronto molto più sereno in cui sentendo da una parte le motivazioni delle persone a favore, si metteva vicino anche le persone che esprimevano dei dubbi, dei dissenso. Invece si è fatta una grande enfasi, sono entrati sulla piazza, sul lagone del dibattito anche 400 uomini e donne di spettacolo, quelli che comunemente si chiamano VIP, questa espressione tristissima, very important person, come se ci fossero delle persone importanti e delle persone che non contano niente. Le persone agli occhi di Dio, ma anche agli occhi di una democrazia, svalgono tutte nella stessa maniera, quindi questi signori che scendono però in piazza non perché hanno argomenti migliori, ma per portare il peso della loro notorietà e che quindi per condizionare l'opinione pubblica, salvo poi rivelarsi tante volte persone che non sanno neanche di cosa si parlano addosso. Dicevo che però il dato che è emerso, il dato che è emerso è quelli che continuamente oggi parlano di democrazia liberale, noi siamo per una democrazia liberale, democrazia liberale, un ritornello che torna continuamente. Io mi sto chiedendo cosa voglia dire democrazia liberale nell'immaginario di questi signori che la propongono continuamente, perché quando io penso alla nostra Costituzione, quando penso alle Costituzioni delle moderne democrazie europee e mi domando perché 30-40 anni fa non si poneva il problema? Eppure 30-40 anni fa gli omosessuali c'erano, avevano dei desideri, avevano i loro problemi. Giustamente si dice è cambiata la cultura, allora il problema è culturale, non è un problema di democrazia, cominciamo a mettere i puntini su lei, qua non è un problema di democrazia, perché le democrazie c'erano, ci sono e ci saranno, qua è un problema di cambiamento culturale. La verità è che oggi è cresciuto il senso del riconoscimento dei diritti soggettivi, insomma se volete che lo diciamo in maniera un po' più banale ma incisiva, siamo passati dalle democrazie che riconoscevano i diritti individuali, siamo passati all'individualismo dei diritti, cioè la gente dice siccome io sento la mia emozione psichica, va di moda questo, che è il termine per indicare la nuova accezione di gender, siccome io sento questa emozione psichica, mi sento così, lo Stato mi deve riconoscere quello che io avverto che sento come un mio diritto. Ripeto, siamo passati dal riconoscimento dei diritti individuali all'individualismo dei diritti, quindi in questa fase io credo che non dovremo parlare tanto di omosessualità, dovremo proprio parlare da un punto di vista giuridico di questa nuova impostazione culturale che sta facendo in modo che i diritti percepiti individualisticamente trovino sempre qualche politico o qualche partito disposti a soddisfarli in questo voto di scambio per cui io ti concedo i tuoi diritti individuali se tu mi dai il voto. Una china a mio modo di vedere pericolosa. Comunque per tornare alla legge sulle unioni civili sapete che è stato salutato come un grande atto di conquista l'aver messo da una parte, aver fatto un emendamento che ha messo da una parte l'adozione, il problema dell'adozione da parte delle coppie gay, quella che viene chiamata con quella moda all'inglesismo, step child adoption, cioè l'adozione del figliastro, del figlio o della figlia del mio compagno. Ed è importante che sia stata messa da una parte perché diciamoci la verità, il rischio qual era? Che se veniva riconosciuto il diritto alle adozioni, poi bastava che uno dei due nella coppia si facesse fare un figlio con l'utero in affitto, pratica diffusissima dalle coppie etero e dalle coppie omosessuali, diceva bastava che uno dei due della coppia omosessuale si facesse fare un figlio per poi dire adesso questo è mio figlio per cui anche l'altro lo deve adottare e di fatto quello diventava il figlio della coppia. Dicevo questo è stato stralciato per far passare la legge, però non siamo ingenui. Sentivo nei giorni scorsi l'intervista a uno dei magistrati del tribunale di Bologna, il quale ha detto hanno tolto la stepchild adoption? Non cambia niente ha detto. Perché dice c'è una legge oggi in Italia, credo che sia dell'83, per cui in una coppia etero sessuale non sposata, per qualsiasi motivo si può chiedere l'adozione da parte dell'altro compagno o compagna. Quindi in ambito etero sessuale si può chiedere l'adozione del figlio, è previsto dalla legge in alcuni casi particolari. Questo magistrato di Bologna ha detto ma noi abbiamo già la forza, noi abbiamo già la forza per quindi per risolvere il problema perché dice il momento in cui uno avrà un figlio nella coppia omosessuale noi diremmo che non si può discriminare la coppia omosessuale rispetto a quella etero sessuale. Quindi il diritto riconosciuto a un uomo o una donna lo applicheremo anche a due uomini e due donne o due transessuali. Testualmente il magistrato diceva così perché davanti alla Costituzione noi non possiamo discriminare i cittadini. evidentemente, evidentemente fatta la legge trovato l'inganno. Allora il giornalista che lo intervestava gli ha detto sì ma questo lo farete a Bologna e un altro piccolo tribunale sarà la stessa identica roba. Risposta la palissiana ha detto ma siccome la Corte Costituzionale dopo un po' ci darà ragione quello che dice la Corte Costituzionale quello diventerà legge per tutta l'Italia. Qua emerge un altro problema vedete qua emerge un altro problema gravissimo e cioè il fatto che la magistratura, una parte della magistratura oggi fa politica. È inutile che lo neghiamo e se è sostituita di fatto al potere legislativo. È quello che con un termine tecnico viene definito prescrittivismo giuridico. Cioè la magistratura fa delle sentenze che diventano come delle prescrizioni che obbligano poi tutto il resto del paese a fare così. E si dice ma questo perché la magistratura vuol rispettare la Costituzione. Allora nel caso nostro specifico delle unioni omosessuali c'è un articolo 29 della Costituzione che dice che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Quindi un uomo e una donna che mettono in piedi un contratto giuridico. Fra l'altro un articolo, l'articolo 29, scritto da Togliati quindi non da un uomo di chiesa o vicino al mondo ecclesiastico e religioso. E allora si dice in genere che non si devono fare discriminazioni. Qua però viene fuori un problema ma non c'è una discriminazione rispetto al dettato costituzionale. Quando questi magistrati fanno delle sentenze che vanno a cozzare con questi principi e loro ti dicono no, noi dobbiamo rispettare i diritti dei cittadini riconosciuti e soprattutto il fatto che i cittadini sono tutti uguali davanti allo Stato. E allora qua scopriamo cari amici che la Costituzione è una maglia elastica che qualche magistrato tira di qua di là. Dipende dal suo orientamento ideologico politico. si fa presto ad adattarla alla Costituzione. Allora quello che diceva la Costituzione 50, 60 anni, 70 anni fa oggi non funziona più perché qualche magistrato dice, la Corte Costituzionale dice, la Corte Costituzionale adatta e quindi dov'è rispetto della Costituzione? Quanta ipocrisia in chi si riempie la bocca di Costituzione, Costituzione, Costituzione. Quando ci accorgiamo poi che in nome delle ideologie politiche i magistrati e la stessa Corte Costituzionale adattano le sentenze, le interpretano, fanno dire alla Costituzione spesso il contrario di quello che dice. Allora non rattristiamoci più di tanto sentendoci impotenti. Ci sarà poi la storia che dirà la stoltezza di questo tempo. Per il momento non facciamoci illusioni. Fatta la legge, gabbato lo santo. Fatta la legge.